Fighetti, volete anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella Mi raccomando di dare un like a questo video e nei commenti un commento in rinita al video Però, regà, dovete seguirmi anche su Instagram perché lì dirò i vincitori delle skin del ballo e del piccone Progetti fighetti, questa X, sono tornato in questo nuovo video perché oggi riga vedremo un altro bundle Probabilmente in arrivo su Fortnite e probabilmente sarà anche gratis Perché è la femmina del maschio, appunto, quello che si sbloccava con il pack di PlayStation Plus Ma come sempre, prima di iniziare i miei video vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale Perché più usiamo e meglio è, più visualizzazioni facciamo, più io porterò un video al giorno Come vedete, prima portavo un video ogni due giorni e adesso invece c'è un video al giorno Giusto perché siamo nel periodo delle feste, quindi non si fa a scuola e quindi un video al giorno fa sempre bene E allora, regà, dai regà, vi lascio il video Ok regà, come vi ho detto, questa skin appunto sarà la versione femminile di quel pack che era uscito per il PlayStation Plus Ok regà, però non arriverà appunto solo una skin Perché arriverà anche un piccone, un deltaplano e un dorso decorativo appunto per la skin Il deltaplano, regà, è qualcosa di veramente innovativo, veramente di qualcosa di, 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 di epico L'ho detto mille volte di, ma fidatevi che questo deltaplano merita 100D, non solo tre volte Aspettate, regà, ok, questo è il piccone, questo è il deltaplano che appunto parlavamo prima di, 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 di Questo sì è il deltaplano di, 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 non si chiama di, 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 ma lo chiamo di, 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 di Questo qua invece, regà, è appunto il dorso decorativo che è un lapto, sapete cosa è un lapto? Un computer E questa qua appunto è una skin, è appunto la skin gratis che arriverà con questo misterioso pacchetto, bundle, chiamatelo come volete E questo invece raga è il piccone che sembra un temperino, un qualcosa di strano, però vabbè raga l'importante è che sia gratis Come vediamo ancora il deltaplano che c'è anche disegnato un rossetto, non so se si vede ma comunque si E poi ci sono disegnati dei teschi vari e qua invece si intravede un bel coniglio e poi lo schermo di questo bellissimo computer totalmente rosa Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, però tenete in mente che è gratis, quindi fatemi sapere da 0 a 10 che voto gli date a questo gadget Io sinceramente ragazzi sono veramente contentissimo che Epic Games regala questa roba qua Perché Epic Games lo sappiamo come molto tirchia e adesso che regala un po' di roba ci iniziamo a diciamo scaldare un po' Visto che con questi 14 giorni ha regalato veramente 14 cose veramente diciamo carine, non bellissime ma carine Alcune cose veramente bellissime e alcune molto carine, cioè delle cose diciamo utili e un po' meno Però raga noi ci accontentiamo perché comunque la roba gratis noi la prendiamo sempre, cioè cosa facciamo? La buttiamo? Non si fa così eh Ma la domanda che ormai sorge spontanea è ma Sykes quando arriverà questo bundle? Quando farà parte della nostra battaglia reale di Fortnite? Raga purtroppo questo qua ancora non lo so, si lo so sono quello che porta notizie sempre su Fortnite, sono sempre aggiornato Questo non lo so, quindi raga vi dico la verità, non lo so non vi dico date tipo non so il 20 gennaio uscirà questo pacchetto No, non lo so e non ve lo dico, quando anche uscirà il pacchetto Twitch Prime ve lo dirò comunque molto prima Tipo non so quando domani o dopo domani farò un video sul pacchetto di Twitch Prime E quali sono le possibili skin in arrivo appunto con questo pacchetto di Twitch Prime Vi faccio un piccolo spoiler, questa skin che probabilmente arriverà con Twitch Prime Pack 3 è verde Questa qua è uno spoiler, non ditelo a nessuno perché è un piccolo spoiler Quindi raga questo è uno spoiler di un video di Twitch che appunto uscirà sul canale Ma non è finita qua raga perché ho scoperto anche delle cose che appunto c'entrano con la stagione 8 di Fortnite Quindi raga non vi spoiler nient'altro ma in questi giorni aspettatevi un video rigordante la stagione 8 su Fortnite Battle Royale Noi ragazzi, spero veramente che questo video vi sia piaciuto Se così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella E come sempre ragazzi, ci becchiamo ad un prossimo video Bella ragazzi, bella ragazzi, mi raccomando seguitemi anche su Instagram, Sykes, trattin'un basso, tm, link in descrizione Ciao